Con il lancio europeo di nuova Abarth 500e, la casa dello Scorpione inaugura un'era totalmente nuova offrendo al pubblico l'Avarth più reattiva ed emozionante nella guida urbana e la più veloce e divertente nella guida extraurbana. L'architettura elettrica si comporta meglio di quella a benzina grazie a una migliore distribuzione dei pesi e a una migliore coppia e a un passo più lungo. Il motore elettrico più reattivo, il passo più lungo, la migliore tenuta di strada grazie all'allargamento della carreggiata e il miglior bilanciamento tra gli assi offrono una grande maneggevolezza e dinamica di guida garantendo alla nuova Abarth 500 una risposta più rapida, una migliore entrata, velocità di percorrenza e uscita in curva. La nuova Abarth 500e è dotata di una batteria da 42 kilowatt ora accopiata ad un motore elettrico di 113,7 kilowatt che le permette di raggiungere i 100 chilometri all'ora con partenza da fermo in soli 7 secondi. Sono disponibili tre esclusive modalità di guida incentrate sulle prestazioni, turismo, scorpion street e scorpion truck che offrono ai clienti la totale libertà di esaltare al massimo l'assetto sportivo. Nuova Abarth 500e è l'unica piccola ad offrire un'esperienza sonora coinvolgente per chi vuole guidare elettrico senza rinunciare al famoso e inconfondibile Rombo Abarth che ha accompagnato generazioni di piloti appassionati ed è sempre stato sinonimo di potenza e prestazioni. In linea con questa filosofia a ogni accensione o spegnimento della vettura il sistema key on off riproduce il suono di una chitarra all'interno dell'abitacolo trasmettendo immediatamente quelle sensazioni che si possono provare a bordo di qualsiasi Abarth. Anche l'AVAS Acoustic Vehicle Alert System riceve un jingle specifico trasformando un freddo vincolo omologativo e normativo in un suono riconoscibile dagli appassionati dello scorpione. Infine la nuova Abarth 500e è la prima e unica city car che può essere equipaggiata con il sound generator per chi non vuole rinunciare alla firma del marchio l'inconfondibile rugito Abarth. Il sound generator accompagna le prestazioni riproducendo fedelmente il suono di un motore Abarth a benzina. Il design degli esterni è caratterizzato da diversi elementi aggressivi che rendono la nuova Abarth 500e unica e accattivante come il nuovo paraurti anteriore sportivo dedicato e le minigonne laterali, il diffusore posteriore in bianco freddo, i cerchi in lega dedicati e le nuove calotte degli specchietti retrovisori in grigio titanio. Il carattere sportivo della nuova Abarth 500e è esaltato anche da fari anteriori full led con la nuova firma Abarth, dai freni a disco anteriori e posteriori, dalle nuove scritte Abarth anteriori e posteriori in grigio titanio scuro, dal nuovo logo laterale elettrificato dello Scorpione, dal tetto fisso in vetro e dai vetri posteriori oscurati per una maggiore privacy. Stile e sportività spiccano dai numerosi dettagli, dall'ambiente scuro dei montanti e del cielo alla nuova fascia Poisson blu per l'avatimento dei sedili anteriori. Al suo debutto l'esclusiva edizione di lancio nuova Abarth 500e Scorpionissima, completamente equipaggiata e accattivante, è la prima Abarth elettrica di sempre. Prodotta in sole 1949 unità, un numero che rende omaggio alla data di nascita del brand e la perfetta sintesi tra esclusività e sportività.